Ciao amici di Screen Week, sono Sonia Serafini e questo è un nuovo appuntamento con il mio podcast. Allora, se sentite dei rumori di sottofondo dei cartoni in lontananza, è perché mio nipote sta cenando con i cartoni. Non c'è stato verso di metterlo in silenzioso, magari di fargli vedere solo delle immagini con una musica un pochino più tenue. Quindi portate pazienza, poi magari vi farò un podcast un giorno su cos'è la mia vita quando vengo a Roma qualche giorno. Cioè, una zia completamente rapita dai nipoti. Ma perché dirvi questo quando non vi interessa assolutamente? Allora, parliamo dell'appuntamento di questo podcast che è per i film che escono al cinema. E questa settimana vorrei concentrarmi su Motherless Brooklyn, ovvero i segreti di una città. Il ritorno alla regia di Edward Norton. Edward Norton che torna alla regia dopo ben 19 anni. Non so quanti di voi si ricordano Tentazioni d'amore, che era una commedia deliziosa che portava la firma dell'attore tre volte candidato ai premi Oscar. Non in tanti sanno che Edward Norton ha questa passione per la regia, ma in realtà lui, questo film, questo libro da cui è tratta poi la pellicola, ne era ossessionato da circa, poi alla fine, quasi vent'anni. Cioè, lui ha letto il libro che è uscito nel 99 e che è diventato un caso editoriale e ha deciso subito di farne un film. Però diciamo che ha trovato non pochi estacoli durante il camino. Ovvero, nessuno credeva nel progetto di Edward Norton, non volevano investire nel progetto, soprattutto perché poi lui ha portato delle modifiche, quindi ci ha messo un po' per riuscire a farlo come diceva lui. Così, mentre cercava di portare a termine questo progetto, ha continuato a lavorare, comunque. È stato poi in numerose pellicole, soprattutto negli ultimi anni ci ricordiamo quelle di Wes Anderson, che ci hanno fatto scoprire anche un lato molto più comico di Edward Norton. Questa è una regia bellissima, secondo me, che esprime tutta la sua maturità. La pellicola parla di questo investigatore privato con la sindrome di Tourette. Lui l'ha scritto, diretto e interpretato. E già di per sé è un personaggio, perché questa sindrome di Tourette è vista sia come un handicap alla fine, perché comunque lui, per chi non lo sapesse, la sindrome di Tourette è quando hai dei tic nervosi molto molto particolari, ma anche a volte non controlli le cose che ti vengono da dire, dici tutto quello che ti passa per la testa. Quindi durante il film, nel film ci sono delle cose che a lui purtroppo escono per forza, però si può vedere anche come una cosa molto fragile e simpatica del personaggio, ma dall'altro canto lui ha anche una mente molto analitica, una memoria molto solida e questo lo aiuterà nelle indagini che lui svolge dentro il film. Praticamente viene ucciso quello che è il suo mentore e capo, che è interpretato da Bruce Willis, e lui parta alla ricerca del colpevole. E questo lo porterà nei bassi fondi della New York degli anni 50, fra musica jazz e l'incontro con una donna, che è una donna bellissima all'interno della pellicola, perché è una donna emancipata per l'epoca, che ha studiato legge, indipendente, quindi non rispetta molto i canoni degli anni 50, e che lui deve salvare da una situazione che si può in qualche modo interpretare come una salvezza per il suo personaggio. Il film è molto bello, le modifiche che lui ha portato alla storia sono proprio l'ambientazione negli anni 50, perché credeva che ambientare il film negli anni 90, quindi nell'epoca di Bush, sarebbe diventato satirico, comunque troppo ironico, per quello che voleva fare lui. Lo scrittore alla fine è stato d'accordo con il regista e gli ha dato il lascia passare per fargli poi fare quello che poi in realtà aveva in mente lui per questa pellicola. Il regista è Jonathan, scusate il mio raffredore a momenti, starnutisco mentre vi sto parlando, è Jonathan Lethem, che ha scritto diversi noir, diversi polizieschi, e nella pellicola ci sono Willem Dafoe, Bruce Willis, come vi ho detto prima, Alec Baldwin, Bobby Cannavale e poi Gugu Mbata Rau, che spero di aver detto bene, che è anche in The Morning Show, di cui vi parlerò domenica. Io sarei molto molto attenta a questa ragazza, perché secondo me sarà la star dell'anno prossimo, quindi già col cast che vi ho detto ci sarebbe da chiudere qui i giochi, ma c'è una cosa ancora più bella, mentre in una scena del film durante un ballo molto particolare fra i due protagonisti all'interno di un jazz club, il musicista suona una canzone e quasi non ci fai caso perché ti sembra una canzone anni 50, ti sembra una canzone molto bella per l'epoca, che in realtà è un riarrangiamento di Tom York, al quale lui ha chiesto di curare gran parte dell'arrangiamento della colonna sonora, ma questa canzone nello specifico, che ha arrangiato una canzone per farla sembrare una canzone degli anni 50. E lui mi ha detto, perché ho intervistato Edward Norton e Gugu Mbata Rau, che spero di non storpiare il suo cognome, e mi ha detto che è uno di quei trucchi che a lui piace fare in qualità di regista e per i quali crede che il cinema sia magia, cioè che con il cinema tutto è possibile, tutto si può creare. E lui ha deciso di creare questa cosa qui con Tom York e poi mi ha detto che per lui la musica è molto importante, all'interno del film ci sono tutta una serie di pezzi che lui ama moltissimo e che per lui il cinema, creare una pellicola, creare un film, una storia, che è anche il cinema che gli piace vedere a lui, è portare via lo spettatore per due ore e mezza, due ore, un'ora e mezza, e non farlo pensare più a quella che è la sua vita, la sua condizione, ma prenderlo e trasportarlo completamente all'interno della pellicola in un altro mondo. E nel suo caso, con Motherless Brooklyn, i segreti di una città, ci porta nella New York degli anni 50. Quindi bravo Edward Norton, a me è piaciuto moltissimo, spero che lo andiate a vedere al cinema e per la rubrica sui film al cinema ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!